Alla ricerca delle grotte. Questa è una grotta che mi ha spostato approfondita da 5 metri fino all'interno. Eccola qui. Potrà anche entrare, però ne voglio sporcare. Questa prosegue. Una cosa c'è questa. Questa grotta, in modo stesso modo, era più profonda. Quindi, ecco qua. Questa è un livello di roccia. E qua, vabbè, finisce. Proseguiamo di qua. E quest'altra roccia, la roccia. E vedete dove conduce questa roccia? Queste sono le rocce che conducono alle grotte del rimposchimento. Fammi proseguire. Questa è un livello di roccia. Vengo da ciucca. Vengo da ciuccare. Ecco qui. E qui c'è una cana. La seconda è qua. Vedete? Guardate i peni. Tutti distrutti. In cento dolore. Però qui c'è la procreazione. La semina e gli altri peni. La natura crea e distrugge. La notita è una canà. La notita è una canà. Questa è la canà. Grazie a tutti